Numero 155 dell'asta IT NTS di Busto Arsizio è Ukunda B, una femmina baio nata il 25 aprile da Tossout e da Osaka B, una figlia di Varenne al primo prodotto. Osaka B fa parte della straordinaria famiglia di Valley Jane B, che la fa risalire alla capostipite Jane B, americana stupenda in pista e in razza. Grazie a tutti!